Riorganizzazione dei reparti dell'ospedale e la sanità, argomenti caldi in Consiglio Comunale, no alle scelte sui territori calate dall'alto, così la pensa anche il sindaco Massimo Cialente, riferendosi alle scelte della Giunta regionale. Il discorso è che non sono i criteri con i quali si sta facendo questa cosa, mi sono sentito anche con i colleghi sindaci delle altre città, adesso aspettiamo di sapere. Io definisco quello che è stato fatto un divertissimo, a meno che la posizione della Giunta regionale dovesse essere che questa cosa la decidono i sindacati, non so se i confederali o quelli medici, e i sindaci poi vengono avvisati successivamente. A questo punto sarebbe un divertissimo, oppure vorrebbe dire che anche noi dobbiamo cominciare un divertissimo. Io raccomando di avere il metodo della politica, non esiste nessuno che a monte può sciogliere dei nodi politici così delicati, perché quando si siede in certi posti bisogna saper fare la politica. Tra i tanti argomenti anche la nomina del manager dell'ASL che divide la politica e spacca il Partito Democratico. Il più duro, il capogruppo di Forza Italia Guido Liris, che più volte ha invitato il sindaco Massimo Cialente alle dimissioni su questo argomento. Altro tema che scotta, quello dei sottoservizi, non sono un optional, rituona Cialente. Senta, il problema dei sottoservizi non è un optional, per cui uno dice, sa che, mori, facciamo fra dieci anni, tu devi fare la pavimentazione, devi fare il bagno a casa, dice voglio cambiare i maiori, che dice no, guarda, abbiamo i bambini piccoli, le maiori le cambiamo dopo. Se è rotto l'impianto del bagno, lo devi cambiare per forza, se no il bagno non lo usi più. Qui bisogna sapere che noi perdiamo l'acqua in quantità industriali, c'è il rischio di allagamenti e le fogne sono rotte, se dentro i cittadini, negoziando e così via, correremo il rischio di creare una bomba ecologica. Non capire questo, è chiaro che dire questo non va bene, salviamo i reparti ospedali, facciamo questo, vogliamo una squadra in serie A, eccetera, eccetera, è facile. Purtroppo bisogna organizzare, allora capire che c'è un ritardo dovuto al problema con la sovintendenza, se interviene su questo o non su altro. Forse non va molto bene la comunicazione che in questo momento, la ditta che sta facendo i lavori, che doveva fare i cittadini, non va bene. A questo punto ce la facciamo noi del Comune con la Gran Sasso Acqua.